Non sapevamo chi affrontavamo oggi, la prima della classe, sicuramente una squadra quadrata, una squadra costruita per vincere. Mi è dispiaciuto non finire la partita sul 2-0, gli ultimi due gol sono un pochettino demerito forse per l'attenzione degli ultimi minuti, è quello che magari volte e volte succede nella nostra squadra, però è un peccato perché i ragazzi per quello che hanno fatto oggi il 2-0 era un risultato più giusto magari. Noi sappiamo che tutte le pareti sono difficili, sarà difficile oggi, sarà difficile anche quella di domenica. Lavoriamo settimana in settimana, quello che cerchiamo di fare in settimana cerchiamo di portarlo la domenica. Oggi sapevamo che avevamo poco spazio magari in fase di possesso palla, però quelle poche volte che abbiamo avuto la palla tra i piedi abbiamo dato dei grattacapi, sul 1-0 c'è stata un'azione sulla sinistra di Piero che purtroppo Nando e Terrone non hanno riuscito a concludere magari se la paretta andava sul 1-1 qualcosina poteva cambiare, però un applauso ai miei ragazzi, sappiamo quello che ci aspetta. Sono ogni domenica una finale, sperando che alla fine riusciamo a mantenere la categoria.